Voglio dare il segnale forte che c'è un cambio, un cambio di marcia, una campania nuova, una Napoli nuova che investe, che sa prendere un cantiere che era chiuso, che era una delle opere incompiute del nostro paese, trovare le risorse, accelerare, tenere qui 350 lavoratori, operai che è un esempio di velocità, ma per far che? Per aprire un ospedale, per poter dare un po' l'ambulatorio immediatamente ai cittadini campani, per dare intanto un segno di ripresa, una voglia di cambiamento e quindi credo che sia un buon esempio, soprattutto per un tema così delicato, dopo i tanti tagli, i tanti sacrifici, dobbiamo invertire la rotta e dare un segnale di forte cambiamento. Attraverso queste grandi strutture e soprattutto con lo sblocco del turnover, ieri ho firmato questo decreto, come sapete, per 1118 assunzioni del settore sanitario, dal 2009 che abbiamo il blocco di questa possibilità, quindi credo che sia un grande segnale di ripresa, ma non basta, noi abbiamo bisogno di tanti altri investimenti, di tante altre assunzioni, abbiamo però iniziato a cambiare le cose dopo tanti anni di disastri che abbiamo ereditato e vogliamo veramente farlo. Il Ministro ci ha dato un segnale forte di incoraggiamento che quindi faremo insieme una lunga strada per cambiare questa nostra sanità.